Diminuisce il numero dei positivi e anche dei ricoveri in provincia. Sono pochi i paesi che hanno numeri a tre cifre per indicare l'incremento dei contagi, ma intanto nelle ultime 24 ore sono infatti soltanto 137 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare riscontrati, 45 pazienti di Caltanissetta, 29 di Gela, 9 di Mazzarino, 9 di Niscemi e gli altri suddivisi per i restanti paesi della provincia. Intanto, come si diceva, sono soltanto tre i paesi che hanno i numeri più grossi rispetto ai contagiati sia in quarantena domiciliare che ricoverati. 538 i contagiati in quarantena domiciliare a Caltanissetta e 9 sono i ricoverati, 685 a Gela e 11 sono i ricoverati, 280 anni Scemi e 5 sono i ricoverati, 189 a San Cataldo e 4 sono i ricoverati. Poi ci sono anche i 127 di Butera con un ricoverato. Al momento il reparto di terapia intensiva è ancora chiuso, sono 6 i pazienti provenienti dalle altre province ricoverati. Nell'ospedale Nisseno invece sono 4 i pazienti nisseni ricoverati in altri presidi. In totale sono 2418 i positivi in tutta la provincia.